Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Si ricorda solamente che in FIPILI fino al 28 febbraio per lavori di alleggerimento e regolazione idraulica è in vigore un restringimento di carreggiata tra Ponte d'Eraest e Ponte d'Ovest e Ponsacco in direzione mare. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze si segnala che è in vigore uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e San Casciano Sud con chiusura dello svincolo di San Casciano Nord in entrata in direzione Siena. Treni per un guasto tecnico tra Pistoia e Porrete e convogli percorrenti la linea Firenze-Pistoia-Lucca via Reggio potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!